cazzo dentro la batteria sentisci a spazio hai rotto le palle eccoci ragazzi in questo nuovo video unboxing è un pacco che proviene da Tango qui va bene, si vede più o meno proviene da Tango sono due cose anzi non vi dico niente quindi apriamolo subito in questa pacchetta di cattiveria sempre con i patti ecco qua ecco qui che l'ho aperto si vede che l'ho aperto ed è, non è una cosa nuova ma è semplicemente cioè, semplicemente il mio Wartek che ho mandato in riparazione appunto da Tango perché aveva un problema il grilletto e poi si sono accorti loro io non mi ero manco accorto che si erano rovinati due fili dalla centralina quindi mi ha cambiato anche quella vi dico anche il prezzo ho speso 45 per la centralina il grilletto era una molletta quindi una molla quindi non me l'hanno fatta neanche pagare e poi c'è dentro anche il caricatore a gas dell'M92 di Luca Trusso 14 ecco appunto il manuale il bigliettino che gli ho scritto io non l'ho rimesso il caricatore della pistola di Luca Trusso che aveva un problema anche quello ecco qua la vecchia valvola ecco quindi la vecchia valvolina perché metteva dentro il gas ma usciva quindi ecco tieni questa è tua è più presente qua abbiamo il tuo bigliettino che gli aveva messo e il caricatore ah questo te l'ho cambiato sì ma è pieno sì sì che bravi prova è dura è dura quindi c'è dentro e qui come vedete spegni fiamma quello nero e il caricatore su originale e qui abbiamo il fucilino ah che bello ecco come vedete il grilletto è sistemato prima arrivava tipo qua in fondo madonna che molla potente che mi hanno messo mi pare giusto ragazzo dai provalo sì non era niente di che aspetta voglio vedere la centralina c'è anche la nuova versione magari sì la nuova versione brava detto ah ecco una cosa se dovete contattarvi per lo stesso motivo sappiate che o vi contattate contando tramite telefono cioè li chiamate uh che bella però non ha la scatolina è piccola o vi contattate tramite whatsapp che ci hanno anche whatsapp oppure li chiamati che è anche più semplice ci si capisce di più ma andiamo incollati come si vede nel video la centralina ah eccola centralina nuova mi piace perché probabilmente quando sono andato dentro quel cacciavite che ho vitato quella vite che c'è qua in fondo li ho presi dentro infatti mi ha mandato la foto che c'era dentro anche un taglio però vabbè bene sono contento che mi è tornato ci hanno impiegato circa vabbè la spedizione dipende quale fate io ho fatto quella veloce imposta è di un giorno quindi è arrivata subito più la spedizione che la riparazione esatto e ci hanno impiegato più o meno tre settimane sì poco più perché ovviamente ovviamente non avevano solo il mio da fare ma che bella che batteria potente ok stacchiamo la billowee eccoci quindi alla fine di questo video spero vi sia piaciuto iscrivetevi se non lo siete già mettete like io sono contento Luca è contento sì che bella sta marvole Luca è contento siamo tutti contenti ciao a tutti